Non stiamo parlando di classi, non stiamo parlando di istituti, non stiamo parlando di plessi, non stiamo parlando di insegnanti e di altro personale. Inutile fare allarmismo su quello che è un atto amministrativo. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen replica l'allarme lanciato dalle opposizioni in comune che sul piano di dimensionamento scolastico hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Il piano, approvato il 16 ottobre scorso su proposta dell'assessore comunale Maurizio De Blasio, deriva, spiega Rosolen, da una norma nazionale e due decreti interministeriali in seguito ai quali viene assegnato alla nostra regione il numero dei dirigenti scolastici. Il dato dal quale il dimensionamento a livello nazionale si muove è un dato demografico di cui è giusto tener conto che non creerà sul territorio tristino alcun tipo di scompenso, anzi permetterà di aggregare istituti comprensivi vicini territorialmente, di proseguire nelle risposte importanti che il nostro tessuto dà, a cominciare dalle scuole polo, ad esempio sulla scuola in ospedale o l'istruzione domiciliare per i bambini. Nessun taglio al personale docente o ata come paventato dalle opposizioni, spiega dunque l'assessore, respingendo la prospettiva che l'accorpamento amministrativo di alcune scuole come la Bergamas e la Duca d'Aosta in altri istituti comprensivi possa creare disagio alle segreterie e alle famiglie. Rosolen poi spiega le ragioni alla base del dimensionamento. Il numero dei bambini diminuiti negli ultimi tre anni scolastico è di 6.200 sul territorio regionale e anche le scuole triestine ovviamente si sono portate dietro un calo importante. Ripeto, stiamo parlando solo ed esclusivamente di dirigenti e di nome dell'istituto di null'altro.